Buonasera, buonasera amici del Bruco, buonasera Francesco, questa sera vi porto un ospite meraviglioso che amiamo tutti e questa sera lo amiamo ancora di più, vero Francesco, perché parleremo del congresso dove moi et toi andremo a presentare, buonasera il meraviglioso Fabio Marchesi. Buonasera, ciao, buonasera a tutti, ciao Francesco. Dunque, Fabio sono felicissima di presentare anche alle ali del Bruco questa nostra meraviglia e parlacene un po', il titolo sarà dall'antica spiritualità alla fisica quantistica che è un continuo di un congresso che avevamo già fatto l'anno scorso a settembre con grandissimo successo, quest'anno l'abbiamo un po' amplificato nel senso lo faremo al De Verotel alle porte di Milano e abbiamo appena avuto la notizia che chi pernotterà al De Verotel che è da fuori avrà anche uno sconto sulle camere, pensa un po', siamo riusciti anche a raccimolare questa cosa meravigliosa per i nostri ospiti. Raccontaci un po', perché questo congresso, di che cosa ci parlerai, raccontaci un po', Fabio. Intanto è importante fare riferimento al congresso dell'anno scorso che era nato così, giocando tra te, Giovanni Vota e me, insomma poi è stato un successo pazzesco, è andato sold out, io sono stato praticamente, non voglio dire perseguitato, però tutti i giorni c'era qualcuno che mi chiamava, mi chiedeva ma non riesce a trovarmi un posto, non riesce a trovarmi un posto, insomma abbiamo accumulato talmente tante intenzioni di partecipazione a quell'evento lì che l'abbiamo rimesso in programma, ci siamo presi il tempo, insomma con l'intento proprio non solo di poter accontentare tutte le persone che erano interessate a partecipare a un evento di questo genere, ma oltretutto potenziandolo tantissimo con dei relatori meravigliosi, per cui c'era questa idea fin nella prima edizione anche di coinvolgere Fabio Borghini ad esempio, che non era potuto venire perché stava insomma fruttando una situazione un po' sua impegnativa e quindi invece quest'anno ci sarà e poi si saranno anche altri relatori meravigliosi, ci sarà ancora, allora saremo io, te, Giovanni Vota, Massimo Citro come la prima edizione e poi ci sarà anche Fabio Borghini, la Manuela Pompas, Bernard Rusch e la Renza Giannini, quindi siamo un bel gruppo insomma, per cui l'intento è quello lì, allora il mio intento, io sempre quando partecipo a degli eventi o partecipo all'organizzazione degli eventi, il mio intento è sempre quello, insomma io sai che sono la persona più ottimista che conosco, quindi io parto dall'idea che tutti i presenti e tutti i relatori si arrivi lì come siamo e si torni a casa illuminati e infinitamente più potenti di come siamo arrivati lì, potenti in tutti i sensi, quindi adesso siamo ancora in un momento critico dell'umanità, insomma sappiamo che ci sono queste, chiamiamole forze oscure che hanno degli intenti nefasti su tutta l'umanità e quindi noi siamo chiamati proprio a riunirci e ad attivare tutte le nostre capacità spirituali più potenti per poter riuscire a creare questo mondo più felice a cui tutti bene o male ambiamo, per cui se adesso c'è questo tentativo dell'intelligenza artificiale, che io sempre la chiamo ignoranza artificiale, di prendere un po' il controllo del mondo, noi rispondiamo con un'intelligenza spirituale illuminante in modo da accelerare questo processo di risveglio della consapevolezza che è già in atto, è potentemente in atto e quindi se il sistema riesce a controllare le masse attraverso i dividi ed impera, la separazione, quindi innanzitutto la sconnessione dell'individuo dalla sua anima e poi la sconnessione di ogni individuo da tutti gli altri individui con sempre questa educazione alla competizione, all'ipercriticismo, insomma cose troppo primitive per essere ancora presenti nell'esperienza umana, quindi noi applicheremo invece l'unione, il principio dell'unione moltiplicativa, invece della divisione che divide e riduce e sottrae, noi vivremo l'esperienza dell'unione moltiplicativa, quindi io sono troppo felice di poter partecipare a questo evento anche perché ho l'opportunità di mettere in pratica un po' tutte le cose che condivido nei miei libri, insomma da anni, dalla fisica dell'anima all'entusiasmologia, infatti il titolo del mio intervento è proprio quello lì, cioè partiamo dai fenomeni quantistici più sconfinanti che sono quelli che ci servono proprio per uscire da quest'idea limitante della realtà che esiste solo ciò che è osservabile, insomma per entrare in una visione più completa della realtà usiamo i fenomeni quantistici più belli, insomma quelli che io amo di più sono l'effetto tunnel sicuramente perché è quello che ci dà la possibilità di entrare in un ordine di idee diverse da quello a cui siamo stati educati riguardo anche al raggiungimento del successo, al raggiungimento della felicità. Noi siamo stati educati tutti che per ottenere qualcosa di buono, di bello, di importante nella vita dobbiamo sempre sacrificarci, lavoro duro, rinunce, sempre questa cosa qua che va avanti da duemila anni, invece poi noi invece applicheremo la gioia, il divertimento, l'entusiasmo come forze proprio per farci spingere ad un livello di consapevolezza più alto e quindi ad entrare in una vita più felice facendo anche tutto quello che possiamo fare per l'umanità e per il mondo a cui ognuno di noi è collegato. Sai che dal punto di vista quantistico noi siamo tutti strutture risuonanti e quindi ognuno di noi ha la possibilità di comunicare con tutta l'umanità e quando un gruppo di persone riesce a riunirsi per fare qualcosa di grandioso, di bello, con intenti costruttivi e felici, tutta l'umanità ne ha un beneficio. E quindi esploreremo, io sono troppo felice degli altri relatori anche perché così tutti gli altri parleranno di tutto quello che serve come preparazione dall'antica spiritualità alla fisica quantistica e io invece sto pensando proprio di partire invece dalla fisica quantistica per arrivare alla fisica dell'anima e poi all'entusiasmologia intesa come tecniche e strumenti utili a permettere ad ogni individuo di riuscire finalmente a ricollegarsi alla sua anima perché è questa la nostra missione. Una volta che riusciamo a collegarci alla nostra anima siamo salvi perché a quel punto smettiamo di aver paura della solitudine, smettiamo di aver paura della morte, smettiamo di aver paura del giudizio degli altri, iniziamo ad avere intuizioni e quindi iniziamo ad accorgerci di che cosa è vero, di che cosa è falso in un mondo come quello di adesso che è tutto basato sull'apparenza e zero sostanza, diventare intuitivi ormai è una necessità. Quindi mi piace questa idea qua, che noi iniziamo il convegno, arriveranno persone di tutti i tipi, di tutti i generi, ci saranno anche quelli ovviamente che ancora stanno davanti ai telegiornali, i poverini loro e quindi riusciremo a generare questo campo di risonanza e di coerenza, d'amore, gratitudine e gioia che sarà per tutti travolgente in modo che torneremo tutti a casa super intuitivi, capaci di accorgerci di come stanno le cose davvero. Allora, una cosa meravigliosa, come avevo annunciato prima perché sono presa dall'entusiasmo, noi coccoleremo le persone che verranno a questo congresso, nel senso che oltre a fruire dei vostri studi che ormai sono più che ventennali, perché tutti i relatori portano un po' il loro anche percorso di vita, sai Fabio come tu, Borghini, il dottor Citro eccetera eccetera, ci sarà poi una grandissima coccola sonora e l'abbiamo voluto io e te in maniera particolare attraverso i suoni di Fabio Borghini, perché questi suoni che lui definisce Atlantidei e secondo me Fabio è un figlio del cielo, sarà il nome, nel senso che ha decodificato queste frequenze che immediatamente dal vivo noi faremo in modo di farvele sentire il più possibile, vanno a ordinarvi al di là del vostro pensiero, nel senso se il vostro pensiero purtroppo è talmente vittima di un paradigma che è difficile da riprogrammare, ripulire come dicono i Veda, attraverso quei suoni il lavoro lo faranno loro, il grosso lavoro lo faranno loro, quindi voi automaticamente, semplicemente sedendovi lì in questa sala bella, comoda, grande, una coccola enorme per voi, con questi suoni ritornerete equilibrati, poi ovvio che ci dovrete anche lavorare, però diciamo che è una marcia in più Fabio. Quanto è importante per te il suono? Tu che mediti moltissimo, che fai queste esperienze magiche con la luna, quindi ascolterai anche il suono dei pianeti, percepirai il suono della natura, di solito in privato ne parliamo io e te di quanto è importante per esempio il suono degli elementali. Quando eri a Bali ricordo che mi hai inviato un video per l'ospedale bellissimo, di suoni di questa zoomata, diciamo di questa giungla, chiamiamola così. Cos'è per te Fabio nel tuo momento biologico di questo passaggio di vita, della tua esperienza, il suono? Quanto è diventato così importante? Il suono è importantissimo perché è energia, informazione e movimento. Noi dal punto di vista quantistico si è scoperto che non può esistere niente che sta fermo, cioè noi pensavamo che la materia potesse stare ferma e che si muovesse solo quando riceve una forza dall'esterno. Invece dal punto di vista quantistico si è scoperto che tutto ciò che si manifesta nello spazio, nel tempo con un corpo, per potersi manifestare nello spazio, nel tempo con un corpo deve vibrare e la vibrazione esprime anche l'energia che possiede l'oggetto vibrante. La vibrazione permette il movimento perché oggetti che hanno una vibrazione simile, ad esempio sempre questa è fisica quantistica si attraggono e oggetti che hanno una vibrazione diversa e non hanno nessun effetto uno sull'altro anche a distanza. Quindi il suono è importantissimo proprio perché può attivare, può muovere, può caricare, può spostare, può energizzare, può portare all'interno di un dinamismo costruttivo ciò che magari è in una situazione dissonante. Quindi quello che Fabio, ad esempio, fa, è riuscito Fabio Bordini, è riuscito a fare, ad esempio io sono rimasto molto impressionato quando ho saputo che ha portato queste sue capacità che sono veramente straordinarie anche per cercare di, insomma, noi saremo persone sane lì che stanno bene o male bene perché uno che c'è per poter venire e partecipare a un evento di questo tipo bisogna comunque avere un minimo di autosufficienza, di capacità di movimento, insomma, per cui questo mi piace quando una persona che sta bene ha delle ambizioni grandiose, no? Anche perché noi, sai, siamo stati educati ad attivare l'ambizione solo quando si soffre o solo quando si sta male. Però il fatto che lui sia riuscito a far uscire dal coma delle persone che erano in situazione gravissima, no? Una persona in coma, cioè lui trovando la frequenza di risonanza della ghiandola pineale attivando la ghiandola pineale dall'esterno con la frequenza di risonanza della ghiandola pineale ha risvegliato le persone dal coma e questa è la dimostrazione inequivocabile di come siamo sensibili alle frequenze. Poi ovviamente ogni organo ha una frequenza diversa, ogni cellula ha una frequenza diversa, però poi noi nella nostra complessità risuoniamo su un'unica frequenza che è quella che comprende sia il nostro stato di salute, sia la nostra consapevolezza, sia i nostri pensieri, sia le nostre paure, sia i nostri desideri, no? Quindi ognuno poi, siamo sistemi complessi, no? Siamo costituiti da tanti elementi, ognuno ha la sua frequenza, però come sistema complesso poi abbiamo una frequenza che è quella dominante, che è quella che poi determina l'impatto che noi abbiamo anche sulla realtà che ci circonda. Quindi ad esempio io tra le cose che condividerò faremo proprio degli esercizi per alzare la frequenza di vibrazione, questo è il modo più semplice ad esempio anche non solo per imparare a rendersi autonomamente felici, no? Perché noi siamo stati tutti educati sempre a cercare sempre tutto fuori, sempre soluzioni fuori, problemi fuori, e mai c'è stato detto che è dentro di noi che dobbiamo intervenire, perché è da dentro di noi che noi generiamo la realtà che sta all'esterno di noi. Comunque è un discorso abbastanza complesso che però, ecco, a me piace cercare di renderlo semplice e spiegarlo in modo che ogni persona possa rendersi conto dell'immenso potere che ha, innanzitutto su se stessa e poi anche sugli altri e sulla realtà. Quindi quando uno si accorge dell'immenso potere che ha, allora a quel punto è bello iniziare ad applicarlo, questo potere, possibilmente in modo costruttivo. Quindi noi siamo strutture vibranti, quindi possiamo vibrare per effetto di stimoli esterni, ma possiamo anche autovibrare per effetto di stimoli interni, no? Quindi con l'uso dell'attenzione, della volontà e dell'immaginazione, noi possiamo fare di noi quello che vogliamo. Quindi quando una persona impara ad alzare autonomamente la sua vibrazione, impara a migliorare autonomamente il suo stato emotivo. Già questa cosa qui è una cosa fondamentale e importantissima, perché essere felici è fondamentale per la nostra salute, per il nostro benessere, per la nostra capacità di esprimere le nostre potenzialità e soprattutto essere felici per poter iniziare ad avere un effetto costruttivo sulla realtà che ci circonda e sugli altri. E poi c'è questa cosa meravigliosa che noi, sai, non so io da quant'è che va avanti sta storia qua, perché si dice che era da tempi di Filippo il Macedone, ma io penso che sia proprio da quando... Deve essere successo qualche secolo fa, non lo so, una volta le gerarchie umane erano basate sulla meritocrazia, quindi chi stava a capo di una tribù era normalmente la persona più saggia, e il più saggio era normalmente il più anziano, quello che aveva più esperienza, e comunque si dava per scontato il fatto che noi fossimo buoni, che ci volessimo del bene, quindi le gerarchie fatte con a capo di una persona saggia e tutti che si vogliono bene, comunque generano bellezza ed evoluzione. Poi deve essere successo che qualche malvagio rincoglionito, non lo so neanche come definirlo, è riuscito a conquistare una posizione di potere e lì è scattato il meccanismo invece di stare qua perché me lo merito, io sto qua e indebolisco tutti in modo che non si accorgono che io sono qua anche se non me lo merito. Quindi ci sono queste situazioni gerarchiche dove è il capo della gerarchia, ci sono gli esseri più devastati, malvagi che esistono, sono a capo delle gerarchie, come fanno a stare a capo delle gerarchie? Mantenendo tutti in uno stato di apatia, di debolezza, di anaffettività, di ipercriticismo e soprattutto stimolando sempre il conflitto, il conflitto è quello che permette ai devastati di stare lì dove stanno. e quindi se noi questo dividi ed impera che va avanti da non so quanto, che inizia anche dai bambini, perché i nostri bambini vengono proprio trattati malissimo, prima divisione, separazione dalla propria anima, così uno non è più intuitivo e lì può solo obbedire, quando uno non sa più accorgersi di come stanno le cose davvero, siamo stati tutti educati a cosa è servito tutto il nostro percorso scolastico dall'asilo in poi, a renderci obbedienti alle figure autoritarie, no quella figura autoritaria, tu devi obbedire, taci, obbedisci e basta. E quindi è un disastro, cioè noi siamo tutti esseri divini, creatori di realtà, con poteri immensi che ci comportiamo come se fossimo dei polli d'allevamento imbecilli che dobbiamo solo obbedire a qualunque ordine ci arriva dall'alto, no? Quindi questo è un elemento in più di questo congresso che è l'effetto quantità di persone, nel senso che indipendentemente dalla nostra volontà, noi saremo più di 400, 400 le persone fisiche presenti, più i relatori e magari qualche persona in più dietro le quinte. Se tutti noi in quel momento lì esprimiamo intenti di gioia, di amore, di gratitudine, l'effetto dell'entusiasmo sarà un effetto tsunami, uno tsunami di gioia. Quindi ogni nostro desiderio, proprio in quel momento lì, sarà potenziato in una maniera incredibile. Cioè rischiamo di trovarci il famoso elefante in salotto, no? Ma guarda che io queste cose le applico sempre, anche quando io faccio dei corsi particolari dove c'ho solo 7-8 persone, ma noi partiamo dal presupposto che l'unione in comunione di intenti non ha un effetto moltiplicativo, ha un effetto esponenziale. perché sono duemila anni che sti malvagi non sanno più cos'è inventarsi per metterci tutti contro tutti, che hanno il terrore proprio che la gente si riunisca in comunione di intenti, perché l'unione in comunione di intenti libera delle forze che sono infinitamente più grandi della semplice somma delle parti, infinitamente più grandi e anche dell'effetto marisci, sai che c'è quell'effetto marisci? Sì, certo. Pensano sempre che qua per avere un effetto su 7 miliardi di persone dobbiamo essere almeno in 70 mila, ma non è vero, non è vero, perché anche due persone che riescono a fare il miracolo della vera comunione di intenti non competitiva creano una forza dirompente superiore a quella di migliaia di persone che sono l'una contro l'altra. Quindi io ovviamente quando c'è l'opportunità di essere così tanti e soprattutto motivati, perché il fatto, ecco, non sottovalutiamo questa cosa, è che tanti non la considerano, però io in tanti anni, tanti anni che faccio conferenze, che tengo corsi, cioè io una volta il mio soprannome era Yes Man, cioè perché chiunque mi invitasse a qualunque conferenza, io andavo, io andavo, cioè proprio mi facevo, cioè andavo, ho sempre, e mi sono trovato in situazioni anche le più assurde, no? Cioè le più assurde, cioè mi trovo a parlare di fisica dell'anima in un paese, dei pensionati che hanno smesso di guardare il telegiornale, sono venuti lì a sentire sto qua che parla, lì così, cioè li vedi così, sono lì in chiusura, no? Che ti ascoltano, quando dici delle cose ovvie annuiscono, quando dici qualcosa di sensazionale, fanno così, no? E poi magari c'è lì quello vicino e fa questo qua è una cazzata, questo qua è una cazzata, questo qua è una cazzata, poi io dico, ma scusa, ma perché dici che ho detto una cazzata? Ah, non ho mai sentita, non ho mai sentita, quindi è una cazzata, cioè quelli che capitano lì per sbaglio agli eventi gratuiti perché non c'è niente da fare, c'è un quell'atteggiamento lì, Che è quello della televisione, no? Quindi se l'ha detto la televisione è vera, se non l'ha detto la televisione è una cazzata, no? Invece, solo per il fatto che sia a pagamento, sai che di queste cose avevamo parlato anche l'anno scorso, sì, sì, tanto che una persona debba pagare, che comunque è una quota simbolica se poi consideriamo che riceve, l'esperienza che può vivere, un'opportunità così, se io non fossi uno dei relatori, cioè mi iscriverei subito per poterci essere a un evento di questo tipo perché sono consapevole dell'immenso beneficio che posso ricavarne, però il fatto che uno si deve iscrivere, deve impegnarsi, comunque deve dedicare una giornata, deve venire lì, vuol dire che è motivato, vuol dire che ha un intento, vuol dire che vuole e questo intento è quell'energia lì che quando poi 400 persone che uniscono quell'energia lì che si moltiplica, è quella la cosa straordinaria e per quello che mi piace, se noi guardiamo, non lo dicevo, allora, dobbiamo sempre dividere, adesso l'umanità è divisa in due grandi categorie, no, cioè quelli che ancora guardano la televisione, guardano i telegiornali, leggono i giornali e credono alle fesserie che raccontano questi e quindi questi qui sono quelli che io definisco irrazionali, irrazionali, non intuitivi, hanno come prima fonte di conoscenza i telegiornali e i giornali, poi ci sono invece gli intuitivi che come prima fonte di conoscenza hanno la loro anima, quindi l'intuitivo ovviamente vive una realtà e ha una vita completamente diversa da quelli invece che vivono ancora di quel tipo di informazioni lì e quindi quando noi riusciamo a creare una forza, un'unione di persone in comunione di intenti con un intento di ovviamente migliorare la nostra consapevolezza che ha sempre una cosa che ha a che fare con la felicità perché io cioè quando è che una persona è felice? Quando riesci a vivere esperienze in sintonia allineate con la sua natura e con la natura e il problema è che noi non sappiamo qual è la nostra natura e non sappiamo neanche qual è la natura della realtà perché quella che ci è stata raccontata è una parte molto limitata di quello che la realtà davvero è per cui una persona che arriva magari comunque con una consapevolezza bene o male non lo so cioè se noi facciamo riferimento all'educazione al senso comune la consapevolezza è limitatissima perché la consapevolezza dell'invisibile che ad esempio c'era una volta è stata è stata volutamente cancellata dalle coscienze chi è consapevole dell'invisibile è perché è andato a cercarsele queste informazioni è andato a cercarsele le esperienze che gli hanno permesso di diventare consapevole dell'invisibile e quindi quando si crea un evento dove c'è un intento un titolo di questo tipo relatori di questo tipo e le persone che vengono evidentemente se sono attrate dall'antica spiritualità la fisica quantistica vuol dire che sono persone che vogliono arricchire la propria consapevolezza soprattutto di quello che manca adesso la consapevolezza tradizionale per cui c'è già una base di intenti comuni e quindi quando tante persone si riuniscono con intenti comuni quella è la situazione migliore più potente per poter creare e vivere direttamente qualsiasi miracolo ed è questo che a me mi emoziona e mi stimola cioè proprio l'idea di tornare a credere nei miracoli imparare a farli e farli subito perché è questo che ci serve fare insomma abbiamo un potere enorme usiamolo uniamoci e usiamolo per far diventare la nostra vita più felice ovviamente ma soprattutto per far diventare l'umanità più felice perché noi siamo elementi dell'umanità e non puoi essere felice tu se tutta l'umanità è infelice cioè io questa cosa qua l'ho vissuta personalmente cioè quando tu diventi felice e esci e ti accorgi che sono lì tutti incazzati neri per un motivo o per l'altro tutti infelici cioè diventa o no diventa obbligatorio darsi da fare per rendere più felice l'umanità poi ovviamente ci sono quelli che non vogliono perché comunque l'infelicità è uno stato di minima energia che è molto per molti è molto più comoda che non la felicità che invece è uno stato di iperenergia quindi il felice ha un sacco di robe da fare e ha sempre voglia da fare il triste sta lì si lamenta e quindi è uno stato energetico infinitamente più più debole della felicità quindi a tanti non gli interessa la felicità anzi a tanti i felici li odiano e quindi noi ci troveremo lì già con una percentuale di felici già altissima questo mi piace tantissimo ci capiterà anche qualche razionale triste lamentoso vittimista che appena l'aveva visto il telegiornale prima di venire lì ci sono sempre quelli però quando poi si crea ecco vedi torniamo al discorso del suono il suono la vibrazione la risonanza entriamo in coerenza ci leviamo c'è uno a quel punto lì se vuole rimanere giù deve proprio deve proprio attaccarsi alla sedia col freno a mano perché basterà rilassarsi per elevarsi no e questa la cosa bella quando sei in un contesto super potenziante ti basta rilassarti e tu ti illumini dimenso non devi fare sforzi questo è questo l'idea con Fabio Borghini che suonerà le sue campane io me li sono già visti tutti lì che si illuminano dimenso che si accendono e si collegano all'anima li ho già visti e quindi sarà così anche secondo me anche secondo me sai Fabio che il congresso che abbiamo fatto insieme quello del 16 settembre scorso io avevo pensato a degli intenti e siccome la sapevo questo giochino qua dell'energia collettiva che era un propostore per gli intenti buoni e positivi devo dirti che si sono realizzati tutti quindi se si realizzano a me basta crederci come dicono le fiabe le fiabe iniziative basta che ci credi a me si è realizzato adesso uno potente che era un intento a cui a cui davo energia da tre anni mi si è realizzato troppo felice guarda e lì sai anche la realizzazione degli intenti dipende anche molto da quanto alzi l'asticella perché c'è chi produce intenti gentili cioè non so se tu sei una che potenzialmente può vincere le olimpiadi e mi vai a fare i campionati provinciali per forza che vinci tutto quindi noi però siamo per alzare l'asticella e avere intenti sempre più ambiziosi si diventerete maghi anche voi allora Fabio diamo a prologo di questo nostro scambio d'anime diamo giusto i riferi perché è ciò che interessa di più cioè De Verotel alle porte di Milano facilissimo da raggiungere fino a un certo punto si arriva con la metropolitana poi c'è un autobus che ogni 8 minuti vi porta all'albergo abbiamo scelto una stanza enorme di 400 posti con un'acustica particolare affinché il suono arrivi a tutti sia il suono delle relazioni dei relatori ma soprattutto il suono di Borghini che agirà sulle vostre cellule riordinandovi il più possibile dando via tu non ci sei tu non ci sei certo e certo che dici vostre non dici nostre vabbè ma noi siamo già ordinati dai no 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 sali per imparare con noi certo certo però io dalla mattina alla sera vivo con le ascolte i relatori che ci saranno quel giorno e ascolto la musica di Borghini perché predico ma pratico nel senso che sono la prima a essere studente di questi relatori e abbiamo appena scoperto che il Devere Hotel regalerà uno sconto particolare nel caso chi volesse il giorno prima permanere a dormire la notte quindi alzarsi riposato rilassato che arriva da lontano quindi più coccolati di così non so cosa dirvi quindi vi aspettiamo al Devere Hotel come vi dicevo anche Correnza che vi spiegherà come leggere il vostro piede allora Fabio grazie di questo bellissimo scambio d'anime qua sotto i riferi per l'iscrizione che tutto l'Ombarada è stato organizzato da entusiasmologia e love and gratitude quindi grazie anche a questi due grandi riferimenti grazie Fabio di esserci sempre grazie grazie a te a prestissimo allora ci vediamo ciao Francesco ci sarà anche Francesco ciao 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 Grazie.